Fred Film Radio, Venezia 79, sono Laura della Corte, sono qui con Umanus E.D. per la sezione Orizzonti, film World War III. Lei ha detto tempo fa una frase di Anne Arendt che dice che nelle dittature tutto è a posto prima di 15 minuti del collasso. Io volevo sapere se questo era quello che voleva rappresentare anche con la storia di Shaqib nel film. Volevo dire che in questi giorni, cosa si è stato fatto a 15 minuti del collasso? Grazie a tutti 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 Grazie a tutti